L'Associazione dei consumatori ha pubblicato sul proprio sito internet la pagina attraverso la quale tutti i lavoratori interessati possono aderire alla class action e ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti. Come è noto, una sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il blocco dei contratti imposto dal 2010. Per tale ragione i 34.575 pubblici dipendenti della Basilicata possono ora chiedere un indennizzo da attività illegittima dello Stato che ha bloccato per sei anni la contrattazione e, contestualmente, possono chiedere un vero e proprio risarcimento per inadempimento dell'obbligo per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza, ossia a far data dal 30 luglio 2015 fino all'effettivo rinnovo. Con la stessa azione il Codacons chiede insieme ai dipendenti pubblici il rinnovo dei contratti collettivi per il personale pubblico dipendente del 1 gennaio 2016, obbligo direttamente scaturente dalla sentenza della Corte Costituzionale 178 del 2015. La richiesta che ciascun pubblico dipendente può formulare è di 100 euro al mese a titolo di indennizzo per il periodo che va dal 2010 al 30 luglio 2015 e di 200 euro al mese per il periodo successivo al 30 luglio 2015, perdurandoli in adempimento ormai chiaramente sanzionato alla Corte stessa per un totale di 8.800 euro al lavoratore. Grazie a tutti!